Il mercato del Togo, sulla strada per l'Omè, incredibile. Buongiorno, siamo L'Omè, stamattina ci facciamo una colazione di lusso, un'oceano, super colazione, con vista, oceano. Sembra che in tutto questo ci sia anche una camera super comoda, 5 stelle in realtà, la nostra tenda. Questo è il nostro campeggio, ah no, la tenda non si vede, è dietro quella staccionata, l'unica tenda, perché forse siamo gli unici poveri qui dentro. In lontananza ci sono due piroghe che stanno andando a pesca. Tra un po' Matteo andrà in officina, quindi adesso vediamo. La catena è andata, il pignone è buono. La ruota, con la nuova, corona? No, la corona è vecchia. Questo garage è specializzato in riparazioni di moto giapponesi. La vista dell'esterno, siamo L'Omè. Speriamo di andare bene. Speriamo? Non tocca alla dominetta. No, la dominetta è brava. Non tocca alla dominetta. Grazie a tutti.